Restano stabili i ricoveri e invece diminuisce il numero dei positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. La curva dei contagi è in ribasso. Sono 127 pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare, dei quali 52 di Gela, 29 di Caltanissetta, 13 di San Cataldo, 10 di Niscemi, 6 di Montedoro e gli altri distribuiti nei vari paesi della provincia. Restano 47 i ricoverati, come si diceva, dei quali 571 invece sono in quarantena domiciliare a Caltanissetta, mentre 11 sono all'ospedale Sant'Elia. Per ciò che riguarda Gela, 730 sono in quarantena domiciliare, 10 sono in malattie infettive. Al momento sono 2.715 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia. Grazie. Grazie.